ragazzi bisogna iscriversi al canale bisognerebbe iscriversi al canale tutto gratis vogliamo arrivare a diecimila un traguardo importante diecimila reali non diecimila fantasmi che poi si fanno live con venti persone qui si fanno live con mille persone diversa la cosa questo lo sappiamo tutti dovrebbe essere un canale a trenta o quarantamila iscritti siamo appena a novemila dobbiamo arrivare a diecimila iscrizione gratis e campanellina se vi fa piacere se non vi fa piacere va bene lo stesso io mi diverto con voi e voi vi divertite con me non tutti ovviamente non si può piacere a tutti non sono la Nutella io lo so ragazzi ma e vedo una tristezza in giro per questa Champions io io sinceramente a volte duro fatica a capire una certa tipologia di interisti no c'è una stagione fantastica come questa dove ci siamo tutti divertiti dove quando accendi la tv per me che purtroppo per motivi famiglia lavoro bambini perché altrimenti io sarei fisso a Sanzino e poi tra l'altro io ho anche vissuto due anni a Milano la conosco bene città fantastica ma ma qual è il problema cioè ma io ve ne ti voglio dire a parte che partiamo dall'inizio calmati calmati non lo so dove i cinesi stai calmo partiamo dall'inizio è partita la campagna da questi portali web leccatori di del retano di Zang è partita la campagna di protezione verso Zang ora sembra che ad essere usciti dagli ottavi abbiamo preso gli stessi soldi dell'anno scorso essendo arrivati in finale di Champions League infatti hanno corretto ieri avevamo perso trenta milioni oggi l'abbiamo persi quarantacinque te lo dico io e l'inter ha perso sessanta milioni abbiamo fatti conti con gente del mestiere non ti preoccupare anche perché l'anno scorso è stata una stagione record tra premi cessioni e l'anno scorso l'inter dalla Champions League ha preso cento milioni la market pool e i cassi visto quando vinci le partite ti danno due milioni un milione se la pareggi cioè cento milioni solo dall'uefa più l'inter aveva dei contratti con degli sponsor tra cui anche paramount che a ogni passaggio turno elargivano altri quattrini capito quindi eh l'inter uscendo dalla Champions League rispetto al cammino dell'anno scorso seguimi sommando la Champions League eh la finale dell'anno scorso sommando gli incassi della Coppa Italia in totale l'inter ha perso sessanta milioni non hanno nemmeno non era finita nemmeno la partita che qualche portale web leccatore di Terretano scriveva Zang non ha perso nulla trenta milioni sono sessanta milioni vedi questo ma non perché bisogna eh rimarcare che Zang ha perso sessanta milioni perché c'è gente che lavora solo ed esclusivamente per difenderlo sia su YouTube sia sui portali web e sia sui giornali perché te lo ripeto non è vero che i giornali sono contro l'Inter i giornali sono contro gli interisti ma difendono Zang poi hanno ritirato fuori una vecchia favola eh ma il prestito di O3 è a nome di Zang ma c'è una piccola differenza caro fuori classe che a proposito chi volesse entrare nella chat WhatsApp eh lascio ancora il code qui eh in sovrappressione poi dopo questi fuori classe os hanno detto questa è la solita minestra che tirano fuori quando le cose non vanno bene anche se secondo me quest'anno le cose stanno andando benissimo non bene benissimo poi ti dico una cosa eh ma il prestito di O3 è a nome di Suning e di Zang c'è una piccola differenza caro fuori classe che ha garantito l'Inter per questo prestito perché questo è un prestito è vero fatto in capo a Suning e a Zang come abbiamo detto centinaia di volte ma è stato veicolato sulla controllante dell'Inter su Grand Tower per garantire la continuità aziendale quindi c'è l'Inter di mezzo è tutto addosso all'Inter capito quindi questi non sono soldi in disponibilità che puoi usare come ti pare sono soldi che si possono usare solo ed esclusivamente per la continuità aziendale dell'Inter quindi che differenza c'è se l'ha fatto lui e poi dopo c'è l'Inter di mezzo spiegamelo fuori classe del portale web leccatore di Teretano c'è gente che vuole bene allora qui c'è ormai ragazzi parliamoci sinceramente non sapendo dove i cinesi qui c'è gente che ti fa Zang e c'è gente che ti fa Inter io ti fò Inter non ti fò Zang a me di Zang non me ne frego una bella sega va bene tra l'altro 3 prende un 12% composto questi fori l'asse che scrivono riscadenze al 15 ma dove l'hai visto ma in che film l'avete visto a proposito dov'è l'ufficialità del riscadenzamento non la vedo io dov'è l'ufficialità chi ha riscadenzato non vedo nulla dov'è lo sponsor porno non lo vedo lo sponsor ludopatico dov'è non vedo nulla ancora io di ufficiale a parte tutto cioè io vedo davvero tanti interisti che sono abbattuti ma te ascolta fermati e ragiona mettiti a sedere un secondo che ci ho da detto una cosa ma te nelle prime otto squadre d'Europa della Champions vedi squadre fanno mercati a zero come noi vedi vedi squadre che prendono 3 4 40 di 35 anni vedi squadre che investono zero perché anche la favola del player trading deve finire l'Inter non fa player trading perché il player trading vuol dire vendere per cento e investire cento l'Inter se vende per cento investe venti quindi non esiste nessun player training questo è vivacchiare alla giornata e basta con questi bolliti Klasen quadrado quest'anno Arnautovic basta bisogna puntare anche sui giovani e il tifoso dell'Inter secondo me in particolare si deve abituare si deve abituare a tifare i giovani a credere nei giovani perché è meglio avere un progetto che non averlo per nulla perché qui anche vedi i parametri zero quest'anno sono stati sbagliati tutti ovviamente togli tu ram di mezzo ma tu ram innanzitutto ha una clausola da 90 milioni che si arriva uno te lo compra è vero che decida che è calciatore ma intanto te per legge sei obbligato a parlare con quello e vuole pagare la clausola stai attento i parametri zero di quest'anno sono stati buttati tutti cioè sono stati sbagliati tutti Klasen quadrado Sanchez perché comunque Sombra l'hai pagato 7 milioni in tre commoderate di cosa stai ragionando e per colpa di questi tre parametri zero metto anche Arnautovic ma anche Arnautovic è un'operazione clamorosa che io questa estate quando dicevo non va preso la gente mi offendeva cioè innanzitutto io non ho mai detto che Klasen era un grande giocatore trovo mi sfido chiunque a trovare un video dove lo dico e poi non ero io e diceva che Arnautovic deve giocare titolare al posto di Turam era qualche altro fuori classe lo diceva che non sa nemmeno come è fatto una palla da calcio e come rotola non certo io ma ti ripeto mi trovi una delle prime otto squadre d'Europa che fa i mercati o me facciamo noi quindi cosa che cosa pretendevi con questa squadra di vincere la Champions i parametri zero che hanno preso che hanno cannato tutti gli anni le hanno cannati tutti e tre perché Klasen maremma puttana Klasen cioè te tu vieni a Milano ti si fa crescere i capelli vieni pelato ti si rimanda ti si manda dalla moglie capellone tu vi sbaglia curriore fa anche rima cioè Klasen ma nemmeno rigori tu batti 100 gol in carriera t'ha fatto ma che t'ha combinato i cinese anche a te per colpa dei parametri zero che hanno fatto flop i vecchietti acerbi darmian mkhitaryan che è colto l'avete visto hanno dovuto tirare ancora di più la carretta motivo per cui con questa rosa di 13 14 giocatori buoni mi dici dove vuoi andare ad affrontare il campionato e Champions League no te hai fatto già un miracolo avanzando il campionato a marzo questi ragazzi hanno fatto un miracolo ma poi come giocando come facendo un calcio spettacolo ragazzi ma cosa pretendete ma volevate davvero vincere la Champions con questa squadra ragazzi ma possiamolo ogni tanto il fiasco del vino dai ma di cosa ragioni ma i cinesi eh ma ma i cinesi ragazzi qui ha i cinesi ha destabilizzato le menti dei tifosi senza sordino tu vinci è difficile tu vinca dove vuoi andare ogni cinese con 13 14 giocatori è un miracolo se vinci il campionato cioè e questa cosa a me mi sta sui coglioni sai perché oggi farlo proprio liberamente mi sta sulle palle perché io sono il primo a criticare il cinese ma sminuire 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 un'impresa perché questi ragazzi hanno fatto un'impresa in campionato nella serie a dicendo che è un campionato scarso un campionato di vecchi è un cimitero dellefanti col cavolo il campionato di serie a sicuramente non è più quello delle sette sorelle di vent'anni fa ma è un campionato dove per per tattica siamo ancora i primi al mondo per tattia per fase difensiva perché gli attaccanti se tu puoi pigliare gli attaccanti e ti pare ma se vengono in Italia o difensori durano fatica te lo dico io quindi usiamo diventa usiamo i catarre capito siamo sempre al campionato italiano e viene sminuito da tutti perché ora il campionato italiano fa schifo non è vero non è vero non è più quello di vent'anni fa ma non fa schifo per nulla il campionato italiano anche perché la stessa inter l'anno scorso lei arrivava in finale di cosa ragioni ma anche agli interisti lo dico è un'impresa con tredici quattordici giocatori buoni perché oltre ai titolari io ti metto carlos augusto aslani carlos augusto aslani e quell'altro chi è che non me lo ricordo sono questi quelli buoni panchina chi sono sono carlos augusto e aslani basta poi ci sono dei ragazzi giovani dove puoi andare con tredici giocatori ma che volevi fare i triplete con tre coi parametri zero adesso ma te puoi fare il ti cioè ragazzi ma si vuole fare i triplete con i parametri zero ma siamo matti ci sono gli unici titolari più altri tre in panchina ci sono quattordici giocatori forti e l'inter quest'anno ha fatto allenatore giocatori mettiamoci anche la diligenza perché comunque però ragazzi per la diligenza io vi dire una cosa cioè parliamo tranquillamente cioè facciamo conto di essere al bar davanti a un caffè tra tifosi no tanto nessuno di noi ha interessi la diligenza ok però vogliamo parlare dell'operazione a ronatovic dieci milioni al bologna e fabian per uno che non si legge in piedi per uno che sbaglia tre metri a tre metri la la butta nel fiume la palla ma di cosa vuoi ragionare ci sono quattordici giocatori buoni e col kaiser sei più forte dell'anno scorso te lo dico io col kaiser sei più forte dell'anno scorso hanno fatto un miralo quest'anno e io rispetto le idee di tutti dei giocatori di cinese tutto bello che ti pare ma vedere gli interisti scontenti mi fa incazzare perché siamo usciti dalla champions dispiace ma non potevi andare avanti a questa rosa anche perché ci sei arrivato scoppiato a marzo non sei scoppiato a febbraio ma sei scoppiato a marzo te la sei comunque giocata contro l'atletico madrid hai fatto un'ottima figura sei arrivato ai rigori se poi quello la butta nel fiume quell'altro tira il rigore e rompe un filestino della punto parcheggiani piazzale non è colpa nostra ragazzi l'importante è aver giocato con serietà essersi impegnati ad aver fatto una bella figura non siamo usciti un 5 a 0 l'atletico madrid anche lì poi l'atletico madrid col kaiser una squadretta questa è una grande squadra perché te metti i gattino e si che si sente leone e sanchez metti eh i capelli che i tedesco in vacanza che è classe lo so che è cioè te chi 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 hai messo dalla pancina hai messo frattese che ancora zoppia quelli ti mettono correa ma non i correa cinese il correa vero quelli ti mettono correa te fai ma dove vuoi andare o i cinese champions e campionato ciao 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 ciao